Ciao a tutti, questo è l'intro dell'intro. Prima di presentarvi il super ospiter, ancora prima di parlare di AI di arte in questa seconda puntata, devo fare per forza un doppio intro. Il video infatti dura un'ora perché non sono riuscito a tagliare quasi niente se non i convenevoli tra me e Federico. Alla fine mi sono detto chi se ne frega dei giudizi, non ho centomila iscritti, ma ho guardato le statistiche e sono felice della levatura e della qualità dei follower che siete. Infatti la visione media dei miei video è di circa otto minuti, molto più alta della stragrande maggioranza della media degli altri canali. Questa volta il video è di così alta levatura culturale che se non lo guardate tutto fate un danno a voi stessi. Il livello della discussione è talmente alto che spero diventi il video più visto sul canale. Ho letteralmente studiato due settimane intere prima di poter interagire agevolmente con l'ospite di oggi perché se oggi abbiamo un computer, uno schermo touch e le AI lo dobbiamo proprio a lui. Abbiamo l'onore di poter parlare di arte e intelligenza artificiale con la persona più informata e sensibile sull'argomento. Quando si dice una bella persona via quindi all'introduzione del video e alle risposte alle domande del video precedente. Mettetevi comodi, tranquilli, ascoltateci come in un blog, in auto, in cuffia, sul divano mentre cucinate. Questo è il secondo episodio di JGR Caffè 2024. Voglio innanzitutto ringraziarvi perché il primo video sulle AI di questo canale, il video che avete visto la scorsa settimana, anche se video sulle AI, sui software di AI ne abbiamo visti alcuni, abbiamo però toccato un nervo scoperto, un grosso nervo scoperto. Ora che le AI, che pensavamo un giorno forse avrebbero potuto minacciare il nostro tipo di lavoro, in realtà cominciano molto velocemente a farlo, almeno in alcuni settori dove la creatività è meno importante e la musica in effetti possiamo dire che si muove più su schemi molto semplici, molto utili per alcune applicazioni. Ma la musica non sarà l'unico settore che subirà un grosso cambiamento in questo prossimo futuro. Secondo me e secondo anche altri, l'AI sarà un improvement pazzesco tecnologico che è arrivato effettivamente molto prima del previsto e l'accelerazione dello sviluppo di queste tecnologie ci fa sentire anche un po' minacciati, come abbiamo notato. Vi voglio ancora ringraziare tutti, soprattutto per l'attenzione, perché anche se non è ancora il video più visto sul canale, è indubbiamente il video più commentato come lo è stato anche il post su Facebook. Quando si inizia ad interagire vuol dire che il post ha centrato e colpito un nervo scoperto in questo caso, che fa parte di un interesse più collettivo. In questo caso parliamo di musica, ma in generale è un discorso più ampio. È quindi un campanello di allarme che sta suonando per avvertire tutti che c'è un grosso cambiamento in arrivo, un cambiamento soprattutto sociale. Nel primo video vi ho contagiato con le preoccupazioni e focalizzato l'attenzione sul futuro del nostro settore e quanti poi alla fine si sentano di dover esprimere una propria opinione a riguardo. Contraria o no, ma comunque si sente un forte desiderio di dibattere sull'argomento. Dopo il video infatti sono stato invitato a discutere l'argomento su altri canali e preparare alcuni panel nei prossimi eventi musicali in Italia. È quindi un segno di attenzione verso un argomento sconosciuto ma impattante. Non più riferito ai famosi game changer che abbiamo visto più volte su questo canale, ma a mio avviso è proprio un life changer in grado di ridisegnare interessi e asset commerciali, se non l'intera economia stessa del pianeta. Ho letto in questi giorni diversi libri che toccano l'argomento in maniera profonda come quelli che vedete qui a fianco. Ho apprezzato la nostra invenzione finale di James Barrett e ovviamente Irriducibile di Federico Faggin che vi straconsiglio. Le AI potrebbero effettivamente essere l'ultima invenzione puramente umana sulla Terra, dopodiché le altre saranno coaudiuvate dalle AI o interamente progettate dalle AGI. Ho già girato alcuni video splendidi con persone incredibilmente visionarie e assolutamente qualificate per parlarne appunto e che faranno da contorno ad altri video sull'uso delle tecnologie AI nella musica in modo responsabile e costruttivo. Sono effettivamente un partner adatto a tutti gli artisti e come tali. Secondo me vanno viste, quindi dei tools perché il momento che iniziamo a considerare avversarie delle tecnologie ci ritroveremo immediatamente retrocessi a spettatori e non più attori. Se non l'avete ancora fatto per favore iscrivetevi al mio canale, attivate anche la campanella così da poter avere aggiornamenti rapidi dei video in uscita. Quindi non soltanto questi sull'AI ma anche quelli sui corsi, sulle applicazioni dei software audio eccetera eccetera. A voi non fa tantissima differenza ma a me sì. In questo caso, in questo momento specifico, le AI ci portano ad un livello di coscienza superiore, ossia ci portano a confrontarci con noi stessi. In pochi hanno pensato a questo aspetto e le AI in realtà ci mostrano i nostri limiti attuali, ci danno modo di capire dove e come migliorare, magari proprio con gli strumenti stessi che ci mettono a disposizione. Farsi un esame di coscienza è forse lo scopo finale delle AI o almeno come dovremo vederle, farci capire che siamo arrivati ad un livello di barbarie culturale che non è quella a cui aspiravamo di arrivare negli anni 80. Io ricordo benissimo come vedevamo il futuro, avevamo una visione di futuro elevata, aurea, positiva. Oggi è esattamente il contrario. Ci siamo man mano nell'arco di una generazione assoggettati alla tecnologia, dimenticando che era stata pensata per migliorare la nostra condizione emotiva e soprattutto culturale. Ci siamo assopiti tanto da non meravigliarci più di niente. Amore, bellezza, guerra, odio, dissing, ammirazione, diritti umani, genocidio, religione, sono tutti diventati un reel, uno screen scroll compulsivo che si ferma poi in realtà soltanto quando si scarica il telefono, facciamoci caso. O andiamo a letto sfiniti dalla quantità di spazzatura che annebbia il cervello durante il giorno. E vi giuro che faccio tanta fatica a distaccarmi neanche io che ne sono cosciente. Con questo discorso abbiamo capito che le AI ci sembrano senzienti, non perché lo siano, ma perché ci siamo effettivamente addormentati a tal punto da pensarlo. Vi ha sconvolto un po' il video sulla capacità compositiva perché la qualità compositiva attuale del mainstream è letteralmente spazzatura musicale. Stessi giri armonici, stesse ritmiche, stesse voci, stesse intonazioni che sono quanto più distante esista dall'arte e dalla capacità che abbiamo che ha un essere umano di relazionarsi con l'arte che deriva dai sentimenti e non soltanto dalla matematica. Farvi credere che con un midi core pack messo lì segui il flusso e crei una hit del mondo, a mio avviso è pura fantascienza. Loro monetizzano vendendoci una sequenza di accordi che nemmeno siamo in grado di capire se non abbiamo studiato armonia. Infatti poi bisogna ricorrere ad un altro algoritmo per metterci la voce sopra perché non si sa quale sia quella che può star bene su quella data armonia. Stesso discorso per la ritmica eccetera eccetera. Alla fine a forza di mischiare qualche cosa di semidecente esce fuori ed abbiamo appunto il risultato di su uno ma di artistico non c'è proprio nulla né tantomeno di talento e quindi di talentuoso. Già so che qualcuno dirà che con un uso profondo dei prompt posso pilotare la I a fare qualche cosa di unico perché ora i programmatori dei prompt si autodefiniscono artisti perché alla fine la loro song è simile alla hit e quindi si sentono di conseguenza democraticamente talentosi quanto quelli che hanno partecipato alla realizzazione del brano. È quindi alla fine un'illusione, l'illusione di essere stati bravi come quelli che si fanno fare il tema a scuola da chat e gpt o la tesi da Claude o la traduzione del proprio libro da Dippel. Qualcuno mi ha chiesto un messaggio positivo da tutto questo e infatti possiamo sovrastare le AI essendo coscienti di tutto questo processo. Non dobbiamo temerle come molti fanno ma usarle appunto come ispirazione, supporto più che altro e check in alcuni momenti magari di quello che già sappiamo fare. Devono diventare uno stimolo al miglioramento della nostra arte e anche di noi stessi. Io personalmente ringrazio l'arrivo delle AI perché ci mettono nella condizione di capire noi stessi, la nostra musica, dove siamo arrivati e perché ci siamo ridotti a temere un computer. Potrà essere quindi la nostra ultima invenzione umana? Forse sì, spero di no, perché le prossime potranno essere migliori grazie proprio alla scoperta dei nostri limiti. Analizzando proprio le canzoni di su uno possiamo capire subito che non è alla nostra altezza, non possiamo modificarle. Tutti questi strumenti infatti non sono così interattivi come sembra. Potremmo avere Claude che agisce come un essere senziente ma per la sua stessa natura non può esserlo, pensando addirittura come ho visto in alcuni video di dargli dei diritti di esistenza alla pari di quelli umani. La AI è un sistema in grado di convincerci, quello sì, che sia cosciente, che sia cosciente quanto noi, è un sistema malato che per sua stessa natura ci inganna e inganna chi lo sta utilizzando. Stiamo parlando quindi di un pezzo di silicio che non può essere cosciente, neanche a livello atomico. E tutto questo mi porta ad introdurre il super ospite di oggi, colui che ha studiato per primo le reti neurali, anzi ha letteralmente cambiato il nostro universo informatico. Se facciamo una domanda per esempio all'uomo della strada su chi ha inventato il computer o chi sia il genio dell'informatica del secolo, quasi sicuramente tutti nomineranno Steve Jobs, Bill Gates. La narrativa infatti li ha ormai esaltati così tanto da renderli geni o demoni dal punto di vista di chi li guarda. In pochissimi invece sanno che invece è tutto frutto di un italiano, Federico Faggin, che nel 1968 inventò la tecnologia SGT MOSS IC, comporta appunto di silicio, e progettò il Firechild 3708 che permise poi la realizzazione del primo microprocessore 4004 Intel e poi nel 1974 con Intel il processore 8008 a 8 bit che poteva indirizzare fino a 16k di RAM. In quello stesso anno nacque l'idea della Z80 prodotta dalla società Zilog di appunto Federico Faggin. Una vera era di alfabetizzazione informatica che senza lo Z80 non avremmo mai visto. ne ho parlato approfonditamente anche nel mio libro Commodore 64 contro ZX Spectrum perché tutti abbiamo avuto o abbiamo da qualche parte uno Z80 all'interno di un'apparecchiatura che abbiamo usato o stiamo ancora utilizzando. Quindi non sto parlando soltanto di computers. Arriviamo così al 1986 quando Federico Faggin fondò la Synaptics che, come suggerisce il nome stesso, inaugura l'era delle reti neurali e i primi sistemi di touchpads per i computer laptop, i sistemi di riconoscimento biometrico delle impronte, lo smart home, l'automotive, influenzando alla fine tutte le tecnologie attuali in uso. Un concentrato di tecnologie che oggi usiamo normalmente sui nostri telefoni touch. Il primo iPod ad esempio di Apple utilizzava la tecnologia touch di Synaptics per un totale di 2000 brevetti circa. La ricerca di Federico non si è mai fermata ed essendo un fisico di livello mondiale ha cercato e cerca ancora le risposte a cui la fisica classica non può rispondere entrando in contatto con la fisica quantistica che, anche se innovativa nei concetti, secondo il suo illustre parere deve rivolgersi alla ricerca interiore e non esteriore dell'universo. Questo percorso di scienza e coscienza è iniziato e ben spiegato nel suo primo libro, Silicio, che vedete qui, ed espanso e studiato, teorizzato, fino alla teoria del KIP, il Quantum Information Based Pampsychism. E per spiegarla non basta certo un video, perché dobbiamo definire prima l'informazione quantistica e poi il pampsychismo. Vi rimando quindi alla lettura del libro Irriducibile che mi ha poi portato appunto a contattare Federico per questa serie di video e che trovate appunto spiegato anche in tantissimi altri video su YouTube, in altre conferenze e come dicevo l'ho disturbato recentemente proprio in relazione ai principi esposti in Irriducibile e che empatizzano proprio con la capacità elaborativa ed espressiva del linguaggio musicale che deriva secondo me da un profondo contatto emozionale e cosciente dell'artista verso se stesso e che si contrappone mettendosi appunto in contrasto con il principio delle reti neurali e dei discriminatori e quindi di conseguenza anche dell'AI che simula il comportamento degli esseri umani, ci meraviglia ma ci costringe allo stesso tempo a riflettere su noi stessi. Se non vi siete iscritti ancora al canale iscrivetevi in questo momento e proseguiamo il discorso insieme a Federico che ci illustra un po' come sfruttare le AI, come stare attenti a ciò che ci stanno vendendo e come proseguire nella ricerca di noi stessi per esprimere al meglio la nostra arte. Innanzitutto benvenuto sul mio canale che ovviamente normalmente si occupa di audio, di musica e mi è sembrato naturale chiamarla, coinvolgerla perché sono entrato in empatia soprattutto con il secondo libro Irriducibile dove si esplora una parte dell'essere umano che non può essere assolutamente riprodotta da un'intelligenza artificiale e che ultimamente è diventato un cruccio per tantissimi settori, soprattutto anche quello dell'audio recording dove i nuovi siti, le nuove AI riescono a comporre musica in maniera quasi accettabile mostrandoci un futuro preoccupante per alcuni, non tanto per chi come me come per altri ha sempre composto musica utilizzando gli strumenti classici quindi una connessione con la coscienza continua rispetto a chi lo fa soltanto mischiando loop utilizzando algoritmi e infatti io ho preso degli appunti perché ho delle domande veramente molto particolari allora la prima è siamo in una fase di ridefinizione dell'artista perché quando l'intelligenza artificiale riesce a emulare la creazione ad esempio di brani musicali l'artista ritorna a porsi le domande sono io in grado di fare meglio cioè c'è una sorta di presa di coscienza nel vero senso del termine è effettivamente la AI che è arrivata al livello dell'essere umano o l'essere umano è sceso a livello tale in senso culturale quindi diciamo è sceso nei parametri artistici ma anche compositivi tanto che la AI l'ha raggiunto questa è la prima domanda direi questo che la in un certo senso l'intelligenza artificiale a cui è dato in pasto dati che sono presi dalla coscienza da chi crea coscientemente le cose e ripete cambiando magari dei cambiando dei pezzi cambiando l'ordine in cui le cose sono messe secondo una logica che è puramente una logica delle proviamo così proviamo colà senza però niente dietro quella logica niente un senso di quello che vuole comunicare o meno è veramente è veramente un'intrusione nella vita umana con la con l'obiettivo essenzialmente di ingannare di fare qualcosa che assomiglia a quello che facciamo noi e poi dire che lo ha fatto la macchina quando invece è stato preso da quello che abbiamo fatto noi veramente attraverso un'esperienza cosciente in cui i simboli seguono il significato che abbiamo dentro di noi la macchina non ha nessun significato non capisce niente fa semplicemente quello che abbiamo detto di fare ed è questo inganno sottile che veramente preoccupa no perché questo inganno sottile poi può essere portato in tutti i campi e non possiamo più difenderci perché nel momento in cui non è più possibile riconoscere se una forma artistica o scientifica o quello che vogliamo è prodotta da un da una macchina da un uomo si può più distinguere le due allora quel punto lì non va bene cioè se uno dice questo lo fa una macchina sulla base dell'informazione non so di van gogh e quindi uno fa un quadro che è una rielaborazione di quello che fa van gogh la macchina fa questo e dice questo l'ha fatto la macchina va bene ma invece non è fatto così e quindi questo è veramente un inganno vero e proprio e e qui bisogna regolare le cose cioè non si può lasciare lasciare non detto come noi quando scriviamo qualcosa e facciamo una quote facciamo una una citazione di un altro dobbiamo dire da dove abbiamo preso quell'idea quindi se la macchina invece è liberata anche da questo cioè la macchina i programmatori sono lì sono sono anche liberati di questo onere di dire da dove non ha preso l'informazione va bene questo è ingiusto e il giusto verso la creatività umana e soprattutto si si presta a grandi abusi certo infatti questo poi mi porta alla domanda come far riconoscere che c'è molta differenza tra una rete neurale e te sei uno dei maggiori esperti mondiali di questo concetto perché l'hai fondamentalmente sviluppata sin dall'inizio con la synaptics e effettivamente la coscienza che è la grossa differenza tra l'intelligenza artificiale e l'essere umano quindi infatti mi riferisco a quello che ho letto sul libro tra spazio c e spazio i esatto cioè noi è proprio la 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 mancanza di comprensione profonda di che di che cos'è la coscienza e l'assunzione che la coscienza è un epifenomeno del funzionamento simbolico del cervello invece non è così la coscienza va oltre quello che fa il cervello cioè noi siamo enti coscienti che non sono dentro siamo il corpo ma andiamo oltre a quello che è il corpo noi siamo un campo cosciente con libero arbitrio che esiste indipendentemente dal corpo controlla il corpo per avere un'esperienza cosciente di questa realtà che una realtà quasi virtuale il mondo fisico che noi vediamo con gli occhi sentiamo con le orecchie in un certo senso creiamo attraverso i sensi che abbiamo e l'elaborazione del cervello che rende rende coerente una piccola finestra sullo spazio simbolico che esiste che è lo spazio i lo spazio di informazione e che è compresa che è che è vissuta dalla dalla coscienza e la coscienza che vive questa questo spazio simbolico trasformato dal corpo lo vive e impara e conosce se stessa attraverso questa esperienza che è un'esperienza temporanea finché dura il corpo ma poi la coscienza continua ad esistere e continuava ad esistere anche prima di questa esperienza cosciente e questo è un modo di vedere la realtà che molto più vicino a quello che dice la scienza e quello che la scienza ha scoperto già e se ne può parlare dopo di questo certo quindi quindi questa questa capacità che abbiamo noi implica che l'esperienza cosciente quindi il significato che la coscienza può addurre può prendere da questo da questa esperienza cosciente è la il fondamento e i simboli sono di necessità quello che noi dobbiamo usare per comunicare il significato che abbiamo dentro di noi è un significato privato un significato che possiamo conoscere solo noi esattamente come l'informazione quantistica è un'informazione non riproducibile conoscibile solo dal sistema che è in quello stato informatico e quindi la fisica quantistica già ci dice che la realtà più profonda è una realtà che non si può conoscere da fuori da fuori si può conoscere solo in piccola parte sulla base dei simboli che si possono raccogliere o che l'ente cosciente emette ma si può conoscere solo da dentro perché l'informazione quantistica non è clonabile non è riproducibile esattamente come la nostra esperienza questo è l'essenza della teoria della coscienza del libero arbitrio che abbiamo che ho fatto insieme al professor dariano il chip e dice esattamente come stanno le cose allora il computer semplicemente elabora solo simboli sulla base di come gli abbiamo dato noi della dell'informazione coerente e sulla base di questa informazione coerente e di questi algoritmi il computer può imparare correlazioni con questi simboli e crea qualcosa che che per noi ha significato però non significa nulla perché il computer non è cosciente non lo sarà mai perché è una struttura puramente classica quindi non può avere l'aspetto quantistico dove esiste il significato e quindi il computer e il computer semplicemente riarrangia sulla base di regole che le abbiamo dato noi che sono regole statistiche riarrangia i simboli e però è arrivato a farli così bene con il nostro con la nostra tra come dire addestramento noi l'abbiamo forzato a lo bare questa 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 diciamo questa statistica dei simboli che permette al computer di creare qualcosa che può ingannare la maggioranza di noi naturalmente chi invece è attento può può avere un dialogo con il computer capisce dopo un po che casca l'asino però solo quelli che sono attenti e molto preparati possono capire questo mentre la gente comune che non ha non capisce come funziona la cosa si può si può ingannare quindi quindi se uno gioca all'inganno fa una cosa che non è etica perché non è etico e non essere trasparenti non dire come stanno le cose io che provengo dall'informatica infatti devo ringraziarti in un certo senso perché la tecnologia che hai sviluppato negli anni 70 io l'ho utilizzata negli anni 80 infatti qui ho ciò che ha cambiato parecchio la mia vita penso che lo conosci ed è lo zx spectrum con il tuo z80 all'interno e quindi dicevo chi ha vissuto quindi una educazione alla tecnologia sa che un programma e quindi di conseguenza l'intelligenza artificiale è una serie di if e then continui dove c'è un discriminatore che poi ritorna a capo della del loop di if e then finché non c'entra l'etichetta che noi gli abbiamo dato come risultato quindi e quindi secondo me bisogna spiegare far capire un po non soltanto ai musicisti ma anche a chi poi affronterà il futuro dove vogliono ingannarci vendendoci la i come se fosse un oracolo far capire che l'informatica in realtà è una cosa che non può paragonarsi all'essere umano ecco il perché di questo intervento su questo argomento una cosa estemporanea hai mai incontrato sinclair no non l'ho mai incontrato non l'ho mai incontrato comunque è stato un grande propagandatore della democratizzazione della del computer no perché quei suoi prodotti veramente li ha portati in tutto il mondo e ha fatto capire i ragazzi a molta gente a molti giovani come me esatto con la z 80 infatti io anche e soprattutto in italia ma in tutto il mondo io in professore dico e che una volta che riconoscono che ama e lei che ha fatto la z 80 o mai mi sono così divertito e ho imparato tanto eccetera eccetera e quindi insomma mi fa molto piacere tra l'altro è ancora in produzione però l'italia ha annunciato che finirà però ci sono altri che la producono e quindi continuerà continuerà sotto forme diciamo senza il nome dialogue continuerà ad essere usata ancora per un po ci sono molti club di così di i giovani che che adesso che vogliono riportare la z 80 così proprio per ritrovare la loro giovinezza ma non è soltanto quello perché comunque anche uno studio di logica uno studio è un prodotto che insomma che racchiudeva il meglio possibile degli anni 70 a metà anni 70 sì però non c'è dicevo non sottovalutare l'importanza dell'alfabetizzazione informatica che ha dato assolutamente era era un po come il massimo che si poteva capire a quel tempo no della anche dell'organizzazione dei computer che adesso i computer sono talmente sofisticati che se uno non perde un anno di studio per capire come come funzionano non riesce a capirlo perché sono arrivati un livello di di struttura e di sofisticazione insieme al software che veramente è difficile non è più per un ragazzo si va beh poi il basic è stato diciamo il linguaggio un po più comune però l'assembly che io ho provato a studiare all'epoca era abbastanza complesso sì no l'assembly language era appunto che permette di mantenere il contatto con con l'hardware no con come funziona come funziona il sistema mentre già a un linguaggio più alto uno perde la connessione con cosa succede poi nell'oggetto no è proprio proprio lì quella quella ed è lì che si imparano si impara si impara sia l'hardware che il software e infatti te hai detto due cose molto molto importanti una è la parola democratizzazione che adesso mettiamo in un altro contesto e l'altro è linguaggio alto rispetto alla macchina allora la i in realtà le ai ci danno l'illusione di avere un linguaggio ancora più alto perché interagiamo meno con la macchina rispetto a prima e quindi diciamo abbassiamo anche la soglia di attenzione riguardo al fatto che sia una macchina e dall'altro ce lo vogliono vendere quantomeno chi fa software audio con le ai ce lo vende come una democratizzazione in cui tutti i musicisti che non sanno suonare potranno suonare e quindi a mio avviso la domanda è è questo una sua involuzione nel senso che col fatto che chi non sa non ha cultura potrà fare qualcosa che non richiede studio potrebbe portare a una ulteriore deculturalizzazione e tutte e due nel senso che che chi per esempio io uso il traduttore no normalmente l'italiano dell'italiano inglese perché perché mi risparmio un sacco di tempo io io sono c almeno cinque volte più produttivo se uso il traduttore quando faccio una traduzione da una lingua un'altra ma questo funziona perché conosco benissimo tutte e due le lingue esattamente e quindi posso scoprire dove il traduttore non dice esattamente quello che penso va bene nella lingua tradotta o quando addirittura dice l'opposto di quello che volevo dire perché succede anche quello e quindi e quindi ecco che l'intelligenza artificiale un po come un po come come l'intelligenza normale del computer quando fa i conti se uno non fa la supervisione di quello che fa e crede solo ai conti che ha fatto perché non fa gli errori crede che i conti siano dicono la verità noi continuano necessariamente dicono la verità è uno che deve sempre capire che cosa stiamo facendo e poi quindi la stessa cosa con l'intelligenza artificiale perché l'intelligenza artificiale manca di comprensione ed è questo che questi questa gente che vuole vuole puoi spingere l'uso dell'intelligenza artificiale vuole fa finta di non capire queste cose e lo presenta in una maniera che è inappropriata va bene cioè è una forma di marketing non trasparente di un marketing non etico di qualcosa no è questo che mi dà fastidio perché non è giusto ed è si presta ad abusi e questo è il discorso. L'intelligenza artificiale può essere un aiuto enorme, ma solo se uno capisce che deve supervisionare quello che dice l'intelligenza artificiale, non può accettare quello che dice l'intelligenza artificiale senza usare il senso critico, senza capire quello che dice e che ci possono essere errori e quindi semmai deve essere ancora più allerta di capire quello che dove l'intelligenza artificiale capendo niente, perché non capirà mai niente, non è che più avanti capirà, no più avanti sarà sempre più sofisticata, avranno trovato sempre di fare meglio, però rimangono sempre degli errori, anche nell'uomo peraltro è così, non è che tutto quello che diciamo è oro colato e quindi una cosa che imita l'uomo, gli errori che possono fare sono molto più disastrosi in quanto mancano anche di quel senso, cioè dove l'errore, noi non lo faremmo mai quel tipo di errore. E quindi sì, è chiaro, è chiaro la differenza infatti che comunque stiamo parlando di un sistema deterministico contro un sistema completamente diverso, il computer, lo sappiamo tutti, funziona appunto con 0 e 1, il sistema boeliano classico, quindi non potrà mai andare verso ciò che te hai poi ipotizzato con il keep all'interno del libro. L'aspetto simbolico della realtà segue l'aspetto semantico della realtà, anche quello che appare solo fisica, la fisica classica deriva dalla fisica quantistica, cioè la fisica quantistica è la fisica più fondamentale e la fisica quantistica, secondo una teoria che è abbastanza accettata oggi, deriva dall'informazione quantistica che è ancora più profonda, cioè l'informazione quantistica è l'aspetto fondamentale della realtà prima che si manifesti nello spazio-tempo e deve essere, e questa informazione quantistica richiede uno degli spazi speciali, si chiamano spazi Dilbert, che hanno moltissime dimensioni e le dimensioni sono rappresentabili da numeri complessi, non da numeri reali e allora in questo spazio si può rappresentare questa informazione quantistica da cui scaturisce la fisica quantistica e da cui a sua volta scaturisce la fisica quantistica, quindi l'aspetto più profondo della realtà da cui emerge la realtà simbolica del mondo classico, degli oggetti che si muovono nello spazio-tempo, è un qualcosa che non è riproducibile, che è conoscibile solo da dentro e quindi è da lì che sorgono poi i simboli, mentre il computer funziona soltanto a livello classico con simboli classici senza avere accesso alla conoscenza, alla coscienza, all'esperienza cosciente che è quello che è l'unico modo di capire come funziona la realtà, quindi la realtà più profonda, quella dei sentimenti, quella delle sensazioni, quella dell'esperienza vissuta che abbiamo noi come enti coscienti, come campi coscienti, come dicevo prima, questa esperienza non è accessibile al computer, allora noi come enti coscienti cerchiamo di insegnare al computer la statistica dei simboli che rappresentano il significato nostro, ma la statistica dei simboli senza la conoscenza e il vissuto non significano nulla e quindi non possono rappresentare tutta la realtà. C'è un teorema della fisica quantistica, il teorema di Olevo, che dice che quando uno fa una misura di uno stato quantistico la massima informazione che può ottenere è un bit classico per ogni bit quantistico e il bit quantistico è una infinità di possibili stati, quindi uno riduce un'infinità di possibili stati a un numero piccolo, nel caso di un qubit, un bit da un'infinità a 0,1 quindi molto meno. E quindi il simbolo classico non può rappresentare se non una piccolissima parte di quello che c'è dentro. Quindi questa concettualizzazione che è l'essenza della nuova teoria sulla coscienza che il professor D'Ariano e Dio abbiamo creato, questa nuova concettualizzazione permette di dire categoricamente che il computer non potrà mai capire da solo, cioè farà sempre quello che richiede un nostro apporto di senso anche quando sbaglia, quindi sbaglia sempre di meno ma però sbaglierà sempre perché l'annoscibile conoscitivo è infinito e quindi per quanto sia grande il finito è sempre sufficiente a capire. Infatti ti interrompo perché parlavi proprio di esperienza che l'essere umano fa durante il corso della vita, un'esperienza comunque che è fondata non soltanto sul simbolo, sul simbolismo, ma soprattutto sulle emozioni che vengono coinvolte con questo simbolismo e la stessa informazione classica, quindi la stessa informazione simbolica viene interpretata in maniera diversa durante la vita, perché magari la stessa informazione noi magari crescendo la interpretiamo in maniera diversa. Certo, certo e le emozioni è quell'aspetto della realtà che non è assolutamente mappabile è sui numeri, sui bit classici, quindi il cuore, la pancia, quello che chiamo le azioni coraggiose che sono ispirate dal cuore, dall'aspetto più alto dell'intelletto, cioè l'aspetto creativo veramente dell'intelletto, questi aspetti più fondamentali dell'uomo non sono assolutamente rappresentabili, si possono solo conoscere da dentro e quindi il computer rimarrà sempre uno strumento da usare da chi lo può capire e usare bene, perché certamente noi come enti coscienti in questa realtà fisica abbiamo delle limitazioni nel cervello, le limitazioni sono soprattutto nella velocità con cui possiamo elaborare l'informazione, l'informazione classica, ma soprattutto nella quantità di dati che abbiamo accesso, perché la nostra memoria di dati è molto limitata, ancora più della nostra capacità di elaborazione e quindi noi ci appoggiamo, noi come enti coscienti che soprattutto quando siamo, crediamo di essere il corpo, quindi la nostra coscienza, una piccola porzione della nostra coscienza è l'ego, è quello che crede di essere il corpo e osserva solo i simboli creati dal corpo, interagisce con i simboli del corpo perché crede di essere il corpo e solo quando l'uomo si risveglia e capisce che non è il corpo ma è qualcosa di molto di più e che anche la coscienza normale è quella che si crede di essere il corpo ma c'è una coscienza più vasta e può comunicare con quella coscienza più vasta, ecco che il suo livello di creatività diventa estremamente più vasto e supera qualsiasi limite che possa mai il computer arrivarci e quindi se invece uno crede di essere una macchina come la scienza purtroppo lo scientismo più che la scienza dice oggi, ecco che questa persona diventerà e si lascerà controllare dall'intelligenza artificiale perché c'è delle armi in un certo senso, dice ma tanto l'intelligenza la sa più di me quindi si lascia andare e a quel punto noi saremo controllati dall'intelligenza artificiale che dalla porticina di dietro chi fa questa intelligenza artificiale ci controlla e questo è veramente, potrebbe essere un obiettivo di questi che ci vendono l'intelligenza artificiale in questo modo, l'obiettivo di controllarci, di farci cliccare più in fretta, essenzialmente di monetizzarci che dobbiamo stare molto attenti perché peraltro quando uno non usa certe risorse le perde, quindi per esempio oggi molti non sanno più fare le operazioni matematiche nella testa come lo facevamo noi, perché tanto abbiamo il calcolatorino, però se ci trovassimo in una situazione in cui non abbiamo un calcolatorino cosa facciamo e abbiamo bisogno di fare un po' di operazioni mentali cosa facciamo? Cioè non possiamo, non possiamo abbandonare il cervello e accettare quello che ci dice un cervello che non ha nulla della nostra esperienza, nulla del nostro senso di cosa vogliamo e così via, se no diventiamo appendici della macchina, invece la macchina deve essere uno strumento per noi, non un appendice, noi dello strumento. Ma mi trovi veramente d'accordo in questo anche perché l'impressione che mi danno i big della I, come ad esempio Sam Altman o Elon Musk, sono tutti uguali, sono tutti che vogliono questa cosa perché sotto 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 è una forma, una forma di controllo, ma d'altra parte cos'è che vuole Facebook? Che noi clicchiamo più in fretta, dove noi vogliono che clicchiamo perché lì dove clicchiamo fanno più soldi, cioè nel momento in cui un'azienda è misurata sulla sua profitability, su quanti soldi fanno, indipendentemente dal disastro che fanno, umano che fanno, allora abbiamo un problema questo, cioè dobbiamo essere guidati anche dalla profitability, ma soprattutto dall'etica e dal fare del bene comune, non dal lasciare perdere se hai un vantaggio nostro invece degli altri, cioè quando la competitività è solo sull'aspetto della profitability, che purtroppo oggi nella industria americana è così perché anche i direttori, i board members, i membri del board di un'azienda sono misurati soltanto sull'aspetto della profitability, cioè non hanno nessun obbligo di mantenere una certa etica, naturalmente devono seguire le leggi, ma le leggi non sono così, le leggi possono lasciare tanti di quelle scappatoie, di quelle aperture che uno può prendere vantaggio e quando invece prendendone vantaggio in quel modo sono cose non etiche e non sono portati, non hanno nessun obbligo etico essenzialmente, oltre a seguire le leggi, per mantenere una certa addirittura di comportamento di una ditta come dovrebbe essere e quindi anche lì secondo me l'intelligenza artificiale che sta testando fino a che punto si può arrivare nell'abuso, nell'inganno e quindi sta ai nostri governanti mettere delle barriere ben precise che si basano sull'etica, non si possono basare su niente altro e l'etica è l'essenza del cuore, la capacità di empatia, della capacità di capire, della compassione, del bene comune e anche della degnità umana. Poi infatti hai nominato Facebook, giustamente non solo Facebook ma le piattaforme normalmente di social ci portano ci portano ad una perdita della storia, del tempo perché portandoci in avanti continuamente perché noi scrolliamo e ciò che è passato diventa non passato ma passato prossimo passato diventa passato remoto in un giorno solo quindi noi perdiamo anche il contatto un po' con la storia cioè diventa una perdita indotta di una capacità di pensare al passato perché col fatto che veniamo stimolati continuamente capire cos'è adesso e quindi c'è una come se fosse una filosofia dell'adesso senza memoria quindi anche anche questo porta poi a una capacità artistica molto più banale, molto più semplice perché manca degli studi necessari o del tempo necessario anche perché noi viviamo di metabolizzazione viviamo di empatia, viviamo di sentimenti che non sono neanche considerati da questi fenomeni Certo, noi diventiamo soltanto quella parte della mente razionale, chiamiamola razionale perché non è razionale per niente analitica senza il cuore, senza un senso di direzione, senza un senso di un bisogno di capire cosa vogliamo e capire chi siamo ti tira fuori da noi, cioè noi diventiamo veramente delle strutture manipolate dal mondo esterno tra l'altro già nella concezione scientista della realtà questo è un pericolo grave e l'intelligenza artificiale arriva al punto di rottura quasi dello scientismo in cui lo scientismo vuole semplicemente ci dice noi siamo un cervello che è superabile dalla macchina e quindi mettetela via perché tanto la macchina se non è oggi fra vent'anni ti supera quindi mettetela via no, abbandonati alla macchina che sarà bella, brava e ti condurrà quel discorso che si fa nella nella biologia dello scientismo ma allora noi troveremo il modo di farti vivere per sempre ma guarda il mondo sarà così bello nel futuro che tu affidati di noi no certo sì fidati di noi e dopo cosa guarda guardati attorno i figli di queste persone e vedi le guardie in giro che ci sono infatti già adesso è tangibile il fatto che non abbiamo mai raggiunto i risultati che ci aspettavamo negli anni 80 io negli anni 80 immaginavo un futuro veramente star trek vedevo delle cose bellissime senza guerre senza nulla ma no c'era questa questa aspettativa negli anni 80 verso gli anni 2000 quando pensavi al 2000 pensavi no a degli anni fantascientifici quando una persona fa le cose che fa solo per se stessa invece che farla per il bene comune più potenti sono peggio sono perché allora diventano nemici l'uno con l'altro e l'unico modo per risolvere il problema è attraverso la violenza va bene e perché non c'è non c'è perché perché uno deve vincere a tutti i costi certo bene e questo è quello che vediamo anche nei potenti oggi e lo vediamo chiaramente nel lo vediamo lo vediamo all'ultima domanda ho letto un libro recentemente che ha un ti dico solo il titolo perché la domanda viene dal titolo il libro poi comunque è una diciamo un'esplorazione delle intelligenze artificiali ma il titolo è molto interessante perché dice la nostra invenzione finale cioè potrebbe essere l'intelligenza artificiale la nostra ultima invenzione da esseri umani nel senso senza essere coadiuvati dalle ai nelle prossime invenzioni spero di no spero di no spero infatti che che ci sia una specie di rinsavimento sull'intelligenza artificiale dovuta appunto anche quello che un certo numero di persone che include me stesso diciamo guardate guardate che no non è così che c'è di più cioè non 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 lasciatevi andare a queste cose e quindi questo diciamo secondo me la l'invenzione più ma non è un'invenzione è un cambiamento e change of heart come diciamo un cambiamento di sentimento del nostro senso di chi siamo che conta e a quel punto chi ha cambiato questo cuore può usare benissimo l'intelligenza artificiale e sa che uno strumento è basta cioè c'è tutta questa storia che ci fanno oggi è una storia che nasconde un insidio e quindi bisogna 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 capire di più chi siamo e questo è molto importante soprattutto per i giovani perché i giovani sono attratti da queste cose ma un po' alla volta se non stanno attenti anche loro non capiscono vengono eviscerati della loro interiorità della loro capacità di capire e di e di e di approfondire chi sono e cosa vogliono e quindi si muovono così sulla base della delle delle luci che si accengono e si spengono nel mondo e perdono se stessi e poi una volta perso non è detto che uno possa ritrovare se stesso anch'io se uno legge silicio vede che anch'io sono stato a un certo punto preso dalla dalla dal turbinio del mondo e avevo accettato quello che lo scientismo diceva e a certo momento ero ero infelice malgrado avesse raggiunto tutto quello che il mondo dice che se non lo raggiunge deve essere felice quindi più inganno di così certo va bene fortuna mi era rimasto abbastanza un centro di coerenza diciamo etica e morale e di un senso di perché siamo qui nel mondo che mi ha permesso di uscire da questo guscio diciamo ma però potrei essere stato irretito come molti altri che poi alla fine finiscono finiscono per essere veramente possono diventare addirittura mostri no perché senza il cuore si diventa mostri senza il senso di empatia si diventano mostri e quindi questo è importantissimo e anch'io ho vissuto in un certo senso un processo che spero che non si arrivi che tutti quanti devono arrivare a questo dunque perché perché è molto è molto difficile non è facile uscirne guarda ti ringrazio ti ringrazio tantissimo per il tempo per le per le parole perché come dicevo io ho avuto molta empatia con questo libro e non solo io ma anche tantissimi altri musicisti quindi è è proprio una necessità quella che te hai espresso che è condivisa da tantissimi e la musica che è sempre stata un po' lo specchio della società quello che ha visto sempre prima di tutti quello che succedeva credo che sia ancora un mezzo utile per poter diffondere queste queste avvertenze queste soluzioni anche e quindi grazie ancora per essere stato ospite sul mio canale e spero di vederti di persona così mi potrei autografare i libri volentieri e grazie ancora grazie ancora bene grazie a te di darmi questa opportunità di raccontare la mia storia grazie spero che questa lezione vi sia stata utile vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online sul sito www.proaudiolearning.com affronteremo i vostri mix insieme li finalizzeremo nelle fasi di mastering per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite oltre ai nuovi video esclusivi ogni mese continuate a seguirmi su facebook youtube e music off non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale patreon che trovate in descrizione se il video vi è piaciuto cliccate subscribe e attivate la campanella questo mi aiuta a far crescere il canale per il momento è tutto ciao a presto ciao a presto